Chivasso. I carabinieri di Chivasso hanno arrestato un pusher francese di 23 anni. Il giovane, fermato ad un posto di blocco, trasportava 50 grani tra alchisce marijuana e 35 semi di marijuana, un macete, una balestra a pistola con relative frecce, una balestra a fucile con ottica di precisione, un arco con 5 frecce e un proiettile calibro 9x21 a palla espansiva. Sul suo camper, a guardia del carico illegale, aveva messo un serpente velenoso. È stato arrestato per detenzione di broga ai fini di spaccio e denunciato per porto d'armi abusivo, oggetti atti a offendere, detenzione e raccolta di armi da guerra, sequestrati il camper e il serpente.